Allora benvenuti, cerchiamo di vedere come installare Rec Room. Rec Room è una piattaforma, un mondo virtuale, costruito per giocare essenzialmente, quindi per far giocare tipicamente ragazzi. Ha giochi in comune come pallavolo, come delle cose simili, insomma come vedete giochi sparatutto, delle avventure, insomma delle cose abbastanza sofisticate e molto interessanti. Paintball in cui la gente si spara addosso con la vernice e via discorrendo. Però dal nostro punto di vista Rec Room ha molte cose interessanti e soprattutto la possibilità di essere una piattaforma in cui si possono costruire dei giochi e di conseguenza a livello educational ci interessa perché possiamo costruire, a parte i giochi normali tipo quelli appena evidenziati, soprattutto cose tipo Escape Room o puzzle o game insomma di investigazioni. Allora quindi la cosa più importante è che per installarlo potete o lavorare con, cioè usare praticamente dei telefoni cellulari, in questo momento supporta iOS, supporta delle piattaforme di gioco, supporta Oculus, Oculus Quest in particolare, ma anche Rift e soprattutto con Steam potete installarla e giocarci praticamente con il PC, quindi senza bisogno anche di un visore di realtà virtuale. Allora per installarlo dovete sul PC, quindi in questo video farò vedere come si installa e le primissime cose che succedono quando si entra in Rec Room. Allora quindi dovete installare Steam, avere una login di Steam, qui dovete fare tutto il giro di Steam che non è banale, poi oltretutto dovrete anche fare attenzione, ecco tra l'altro non comprate la versione a pagamento di Rec Room perché non ce n'è bisogno, costa 8 dollari al mese ma noi non la useremo. Fate solo attenzione che se lavorate da PC avete bisogno di una scheda grafica un pochino importante, quindi 970 che corrisponde su ProGiura 1050, che ormai c'è su molti computer che hanno scheda GeForce dedicata. Ho visto che funziona anche con schede un pochino più blande ma lagga un po', vedete voi, quindi l'ideale è ovviamente avere la piattaforma di gioco su cui si gioca bene. Dovete avere almeno 4 GB di video RAM, come vedete non c'è bisogno di avere un i7, basta un i5, gira a partire da Windows e così via. Quindi la prima cosa che fare è scaricarvi il gioco e poi tramite il Steam, adesso io lancerò un momento Steam, questo è il mio Steam, vedrete che adesso Steam come vedete è una cosa un pochino pesante ma che consente di gestire tutti i giochi di realtà virtuale e non solo. Se avete Steam e il visore in realtà virtuale in realtà quando installate dovreste poter anche comprarlo, quindi andate in store, quindi nello store cercate il rec room, vedete che c'è free to play, quando lo cercate lo potete comprare, quindi c'è un momento free to play e qui potete comprarlo, ve lo scarica, sono qualche gigabyte di roba e una volta acquistato regolarmente lo trovate nella vostra libreria. Quindi io vado nella mia libreria e vedete che tra i recenti abbiamo rec room. Ora, quando io qui c'ho sia il visore di realtà virtuale che il pc normale, quindi quando faccio play in realtà mi chiede se voglio lavorare con la VR oppure senza VR. Se voi non avete il visore di realtà virtuale in teoria dovrebbe partirvi direttamente in modalità non VR. Allora facciamo questo, facciamo play e qui abbiamo la schermata d'inizio. Ok ci impiega un attimo a caricare tutto l'impianto che serve per rec room per questo gioco, quindi come abbiamo detto che è abbastanza pesantino, ma più o meno ai livelli in cui era high fidelity o anche second life diciamo, quindi gira bene nel modo in cui girava bene second life. Quindi possiamo continuare come un utente per esempio Salazar se avete registrato, oppure qualcuno abbiamo dato un codice per entrare. Ma noi facciamo un sign in to another rec room account e creiamoci un account nuovo. Ok? Quindi creiamo un account questo e questo account ok ci crea praticamente... ecco vedete che ci ha creato, entriamo praticamente in un dormitorio, una stanza dormitorio, ci chiede l'età e al momento gli mettiamo un'età media, 40 minuti, 40 anni. Ok? Lo username possiamo farcelo generare casualmente oppure gli mettiamo un edu3d, oppure gli mettiamo almeno 8 caratteri abbiamo detto, quindi adesso gli metto una password... ok? Vediamo un po' se funziona... e poi... sono 2, 4, 6, 8... e poi mettiamone anche... chissà se me la ricorderò... Adesso facciamo submit, quindi vi ho messo il nostro utente, ok? Quindi... ok, se per caso volete anche voi registrarvi in questo momento, diventerete credo amici direttamente di edu3d, potete inserire il codice all'inizio quando ve l'ho chiesto, yjn56z5. Potete copiarlo o darlo alle persone, come avete visto la maschera precedente c'è la possibilità di iscrivervi. Ok, siamo entrati, quindi vedete che vi fa vedere che cosa potete fare. Ok, vedete che all'inizio compare questo dormitorio e io direi che per questo... vedete che mi ha fatto un avatar in alto a destra, ma io direi che per il momento fermiamo il video qua. Quindi siete entrati nel vostro dormitorio con la vostra identità. Grazie. 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 Grazie.